Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 15 luglio. Ariete, ancora non vi sentite in forma, però cominciate a recuperare energie perché riuscite ad evitare le situazioni troppo stressanti, attenti alle attrazioni fatali. Toro sarà una giornata litigiosa in cui non andrete d'accordo con nessuno, rischiando di compromettere anche rapporti consolidati. In questo momento non riuscite a mantenere la calma. Gemelli, arriva una giornata un po' noiosa in cui gli impegni familiari e professionali vi impediranno di avere un po' di tempo libero. In serata vi sentirete stressati. Cancro, una bellissima luna vi permetterà di affrontare la giornata con lo spirito giusto. Sarete in grado di ottenere ottimi risultati, potete mettervi in evidenza. Leone, avete voglia di divertirvi, ma oggi sarete costretti a passare gran parte del tempo in casa o in ufficio. Ci sono dei problemi che vanno affrontati. Vergine, la luna vi rende simpatici e chiacchieroni. Un esame o un colloquio di lavoro possono essere superati brillantemente. Anche l'amore vi darà soddisfazione. Bilancia, oggi sarete solidi e produttivi. Avrete tante buone idee da mettere in pratica ottenendo dei risultati concreti. Le cose migliorano anche in amore. Scorpione, la luna nel vostro segno serve a stemperare l'atmosfera incandescente che si è creata sul lavoro e nella coppia. Oggi sarete molto più tranquilli. Sagittario, avete tante buone occasioni da sfruttare in amore e sul lavoro, ma con la luna alle vostre spalle rischiate di rimanere isolati. Comunicate di più. Capricorno, ci sono tanti cambiamenti in atto nella vostra vita che comunque riuscite a gestire sempre con estrema calma e lucidità. Non c'è niente che possa mandarvi in crisi. Acquario, oggi sarete intrattabili. La luna ostile vi rende nervosi ed aggressivi. Non siete disposti a concedere nulla, nemmeno al partner. Pesci, avrete voglia di partire e di concedervi dei momenti di relax. Per questo sul lavoro sarete un po' distratti quest'oggi. Avrete tempo per recuperare. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.